allora sempre daniele fanelli su segnalazione di raffaele d'angelo vi volevo far vedere per la stampa del dei consuntivi il bilancio per tabella che è un po come era per noi il registro delle spese dovete andare qua sulla vocina invece che sintetico fare dettagliato e io accorpo le voci per le ritmo d'acconto no scusate è questa per le ritmo d'acconto e viene fuori questa cosina molto utile e molto carina e qual è la cosa molto carina che si può variare con dei campi merge quello che andiamo a scrivere qua dentro ovvero utilizzando descrizione voci compaiono i vari formati e l'esempio ve lo fa vedere qui sotto quindi ci sono varie varie possibilità io utilizzo questa eccolo qua oppure bene fate una voi va bene come come piace a voi aggiungendo i vari i vari ecco sotto vi fa vedere il protocollo lo volete mettere tra parentesi ecco mi fa vedere il protocollo e la descrizione ecco piano piano sotto si costruisce quello che voi andate a inserire tenendo presente ripeto questo che questo per esempio qui ci ho scritto pagato il ecco e lo potete mettere tra parentesi per esempio ecco sotto vi fa vedere piano 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 come si costruisce il mail merge insomma e eccolo qua va bene e ecco pure con l'errore ortografico sono dislessico grazie al cavo pagato ok eccolo qua comunque avete possibilità o di utilizzare già il prestampato il prestampato le voci predefinite scusatemi che vi da vi da il gestionale oppure farne uno vostro che poi ovviamente dopo che ne avete fatto uno ecco ecco potete copiare i predefiniti e potete aggiungere quello che ok come viene quello che vi pare quello che vi pare ok molto calino molto carino molto utile io lo allego chiamandolo in Himself bilancio dettagliato per tabella qui ci scrivo registro spese eccolo qua ok molto carino mi piace molto potete gestirvelo anche qui va fatto una volta sola una volta che l'avete fatto l'avete compilato basta è fatto ce l'avete ce l'avete per tutti i condomini ok molto carino ciao